Salve a tutti, bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come aggiornare così driver obsoleti sulla tua scheda di rete per connetterti sempre alla tua connessione wifi quindi in questo caso può essere perché il problema è che la rete si disconnette così perché i driver sono vecchi quindi non funzionano più quindi per aggiornare così la tua scheda ci sono due metodi possiamo andare direttamente sulle pagine che ti ho lasciato in descrizione quindi vai sul link che ti porterà sulla pagina del driver easy così facendo andremo poi a scaricare il driver per la nostra scheda di rete quindi in questo caso ci sono tre piani light pro e quell'altro l'ultimo di 99 dollari noi così andremo a scaricare il programma light andremo poi anche a installarlo tanto è facile installare questo programma driver easy una volta scaricato e installato non ci resta che aprire così il programma fai la scansione dei tuoi driver puoi aggiornare qualsiasi driver con driver easy in alto a destra nelle schede ci sono gli altri tutorial su come aggiornare tutti i driver obsoleti sul nostro sistema operativo quindi aspettiamo un attimo la scansione una volta fatto scendiamo fino a giù fino a trovare la nostra scheda di rete se non sai qual è la tua scheda di rete nel computer puoi sempre andare sul tasto destro sopra su start gestione dispositivi ed eccole qua schede di rete io uso questa qua tip link wireless npc express adattatore questo qua che combacia proprio con questo tip link wireless non mi resta che cliccare su aggiorna crea manualmente perché questa è una versione gratuita continua questa è la velocità di download perché hanno applicato così un limite quindi se tu esegui l'aggiornamento a pro lo scarichi subito subito quindi 9 megabyte 10 megabyte li scarichi subito quindi questo qua era il primo metodo poi dopo vi spiego proprio come installare il driver sulla scheda di rete attraverso driver easy come secondo metodo poi semplicemente andare tasto destro sopra proprietà ci serve così il nome della scheda io vado a copiare così il nome della mia scheda realtech pc è questa qua ed ecco qua la mia scheda questa è la mia scheda di rete che tengo nel mio computer quindi se vado direttamente su supporto tu basta che trovi così la tua scheda entri così nel sito vai su supporto e troverai sicuramente i driver questi sono i driver ed eccoli qua gli ultimi driver rilasciati per la mia scheda di rete se tu colleghi la tua scheda di rete al computer ma non funziona quindi devi scaricare i driver però se non hai una connessione wifi puoi semplicemente metterla su una chiavetta usb attraverso il telefono che ne so attraverso su un altro computer quindi sposti il file che hai scaricato su una chiavetta e la inserisci nel computer dove devi installare il driver io ovviamente uso il cavo LAN quindi scarichi e la installi ok una volta scaricati così driver su driver easy andiamo a fare installa manualmente facciamo continua uscirà così la cartella con tutti questi file all'interno copia così copia il percorso file quindi fai copia ora dopo aver copiato così il percorso file tasto destro su tip link wireless la mia scheda di rete aggiorna driver cerca i driver in computer e inserisco così la cartella il percorso file di quella cartella l'ho incollata qua faccio avanti installazione dei driver in corso e ha installato i driver per la mia scheda di rete driver easy è un ottimo programma quindi se questo video ti è stato utilissimo su come aggiornare i vecchi driver driver obsoleti della tua scheda di rete che tieni sul tuo pc iscriviti, lascia like per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao